Il parquet in mille pezzi! Mille pezzi, la novità dei parquet! Un parquet a tre strati, resistente, facile e veloce da montare, nell'essenza che preferisci. Arreda la tua casa o il tuo locale in modo del tutto originale e unico. Inoltre, le tessere possono essere realizzate con impiallacciatura di vera pietra. Noi, i parquet, li facciamo in mille pezzi! Mille pezzi è ad Arcevia! Via San Giovanni Battista 49 0731 98 40 16